buon pomeriggio al dottor ernesto albanello lei è uno dei promotori dell'iniziativa la stanza degli abbracci il diritto alla carezza ci può parlare di questo progetto che da oggi attivo anche a giulia nova molto volentieri sì questa iniziativa nasce da una considerazione di quanto sia stato direi abbastanza terribile questo allontanamento dei malati di covi dei propri familiari come tutta come a tutti noto i familiari sono stati letteralmente distanziati allontanati dai positivi col coviti perché altrimenti loro sarebbero stati trasmettitori di questo virus ora se questo è giusto e doveroso proprio per evitare la trasmissione del contagio e pur tuttavia altrettanto meritevole di riflessione che un prolungato stato di distanziamento crea una serie di atteggiamenti rinunciatari o una mestizia per non dire un'anticamera della depressione io nella mia attività di psicologo mi sono trovato ad avere a che fare con tanti soggetti che vivevano con vero e proprio strazio questa questo distacco dei propri familiari da lì è venuta fuori la la mia riflessione direi abbastanza semplice conseguente ma perché non scogitare qualcosa che possa mettere familiari ed agenti in una sorta di maggiore vicinanza pure in condizioni di sicurezza e con questa proprio immediatezza come gliela sto dicendo adesso io ho mandato un semplicissimo whatsapp al alla segreteria provinciale della cgl di teramo che senza neppure che io potessi avere il tempo di rimanere incredulo per questa immediata e subitanea risposta ho ricevuto un invito a fare un focus attraverso il quale io avrei dovuto spiegare un po più approfonditamente in che cosa consistevano queste stanze e gli abbracci perché la cgl di teramo e ma anche direi la cgl a livello regionale erano veramente seriamente interessati c'è da dire che in effetti il mio invito fatto al sindacato era anche conseguente all'osservazione di altre stanze e gli abbracci che si erano andate ad installare in varie parti soprattutto nel nord italia che avevano visto sempre i sindacati diciamo elementi propulsori strutture diciamo promotrici ed ecco che allora per un per un comportamento conseguente una buona amicizia col segretario provinciale di questo sindacato di teramo è nata così in maniera del tutto direi proprio semplice e questa questa considerazione che perché no anche l'abruzzo avrebbe potuto dotarsi di stanze e gli abbracci e il sindacato cgl non solo ha preso una stanza e gli abbracci che è stata installata appunto a bivio bellocchio di giulianova in una rsa ma addirittura altre tre ne sono state acquistate una installata alla casa di riposto del benedictis di teramo una in una struttura che adesso di cui adesso però non ricordo esattamente la dicitura e ma è di vasto che è collegato a vasto e un'altra a campo basso quindi ci sono queste quattro realtà la allora le stanze gli abbracci sono nate con quale intendimento ecco soprattutto nel nord dove l'rsa come tutti quanti sappiamo è ospitavano persone come dire vulnerabili fragili e quindi per evitare che le persone familiari dall'esterno potessero infettare o potessero in qualche modo indebolire ancora di più una fragilità che era nelle cose negli ospiti delle rsa lombarde piemontesi eccetera lì si è visto quanto potesse essere diciamo in termini di massima sicurezza ben praticabile questa vicinanza nel caso del bivio bellocchio dall'rsa parere ci siamo trovati in una situazione diametralmente opposta perché perché nel bivio bellocchio ci sono i positivi di covid e quindi in quel caso la struttura stanza gli abbracci è stata ulteriormente rinforzata con particolari guarnizioni che la rendevano ancora più solida nella nella sostanziale distanziamento e quindi ed ecco che oggi è stata appunto inaugurata questa stanza direi unica nel nostro paese perché a queste ulteriori guarnizioni ulteriori equipaggiamenti aggiuntivi che appunto permette quella rsa di stabilire come appunto ha detto lei in giorni e orari particolari di poter creare questa vicinanza tra ospiti e familiari come hanno hanno preso gli ospiti della rsa questa iniziativa voi avete avuto modo già di testarla anche magari in altre occasioni come lei parlava no in questo momento è veramente un inedito perché è arrivata solo stamattina cioè un paio di giorni fa l'abbiamo installata ma sicuramente loro non potranno che compiacersene perché è nell'ordine delle cose che chiedono costantemente io io ho avuto diversi ospiti della rsa di che è bene precisare che è una rsa particolare perché un reparto anti covi no allora queste persone non facevano che chiedere costantemente continuamente un incontro con i propri familiari poi insomma alcune volte si aveva a che fare anche con con malati con demenza senile o con o con un'amnesia precoce per cui insomma casomai in videochiamata questi familiari venivano fatti vedere ma nel giro di poco tempo il ricordo sfumava e l'augurio nostro è che invece attraverso la stanza gli abbracci nel momento in cui altri sensi vengono sollecitati non c'è solo il senso della vista come nel caso della videochiamata ma anche c'è il senso del tatto perché perché come funziona la stanza gli abbracci se mi permette vorrevo dare qualche chiarimento cioè praticamente è una è un dispositivo che si che si gonfia con un compressore e non un minuto praticamente in un minuto messa la spina si gonfia ed è una specie di di tenda di tenda un po quadrata qua 3x3 e al centro di questo corridoio rigonfio c'è una parete centrale eh di plastica trasparente con due manicotti qual è la funzione dei due manicotti che eh in un manicotto infilerà un braccio il familiare nell'altro infilerà il braccio il degente e si abbracceranno come come l'espressione appunto della del dispositivo sta ricordarci quindi hm la nostra il nostro intendimento è metterci subito all'opera e già da martedì eh dovremmo hm il tempo di andare ad allertare dei familiari nell'orario che stabiliremo per loro perché non dimentichiamo che poi ogni volta che un familiare eh viene a contatto con il degente della propria al proprio caro poi tutto deve essere sanificato quindi ci deve essere anche un tempo di intervallo tra una un incontro ravvicinato e l'altro insomma senta lei come psicologo ci ha parlato poc'anzi di come la pandemia sia andata ad influire ancor più sulle relazioni soprattutto gli anziani ospiti dell'RSA ma non trova che in linea di massima ci sia un problema anche pre pandemia cioè gli anziani vengono in qualche modo in alcune occasioni purtroppo diciamo non coinvolti quindi pensa che questo coinvolgimento debba in qualche modo essere a 360 gradi anche perché ricordiamoci che gli anziani sono la nostra memoria storica guardi lei dice qualcosa che a me mi mi tocca molto e mi coinvolge io sono un sostenitore di una tesi che eh nel nostro paese ma non solo nel nostro paese la medicina e la ricerca farmaceutica hanno fatto passi da gigante nel senso che che le persone si sono andate ad evolvere in termini di allungamento della vita come noi sappiamo nel nostro paese eh una donna mediamente vive 84 anni e un uomo mediamente 80 anni allora questo cosa vuol dire vuol dire che tutto quello che si poteva e doveva fare per l'allungamento della vita si è fatto però a mio parere non si è fatto altrettanto per riempire di contenuti quegli anni strappati alla morte non so se è una riflessione pertinente cioè che cosa farne se quegli anni ulteriori non sono ricchi di senso non sono significativi credo di aver risposto in parte alla sua domanda cioè certo la eh eh il lavoro di eh eh elaborazione di un rapporto emotivo affettivo è sicuramente qualche cosa di coagliuvante ma non solo e io ah ah avrei anche mh il desiderio di portare avanti una tesi di questo tipo è proprio vero che il familiare eh sempre in ogni caso è un elemento coagliuvante per una persona che non sta bene o alcune volte il familiare può essere un ulteriore elemento deprimente mi spiego spero e voglio augurarmi che siano delle eccezioni ma perché non domandarci che una persona fragile una persona vulnerabile avrà bisogno anche di incontrarsi con persone ricche di senso per lui non necessariamente facendo parte del proprio nucleo familiare che possono in qualche misura eh ridestare una motivazione a proseguire nella vita a sentirsi non solo protetti ma anche soggetti attivi è un è un percorso cioè pensiamo quante persone eh pochissimo tempo fa eh è stato insignito dell'onoreficenza di presidente della gran croce alberto angela che ha 92 anni nessuno si sogna di pensare pensando ad alberto angelo no scusi piero angela alberto il figlio nessuno si sogna di eh fare riferimento a piero angela come una persona vegliarda no perché perché continua ad avere una vita stimolante ricca di senso di qualche anno di qualche anno più giovane è Renzo Piano il famoso architetto che ci ha ridonato gratuitamente l'ex Ponte Morandi che adesso non ricordo bene mi pare che si chiami eh Colombo non mi ricordo insomma ha una denominazione nuova per dire eh vogliamo eh derubricarli dagli anziani solo perché hanno una mente eh una mente destra ma perché se per loro vale non dovrebbe valere per gli altri ma è un discorso che ci porterebbe lontano certo certo quindi queste sue parole ecco vanno incontro a un discorso più ampio che porta a un coinvolgimento degli anziani chiamiamolo vecchiamento attivo potremmo dargli come diceva lei un coinvolgimento un 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 discorso di umanizzazione tra virgolette anche dei 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 rapporti degli anziani che come poc'anzi appunto ricordavo lei possono e magari non devono solo limitarsi al al alle al cerchio stretto ecco dei familiari che per carità è ovvio che è che è un rapporto fondamentale nessuno lo mette in discussione ma qualche volta perché la stanza degli abbracci tornando alla stanza degli abbracci in fondo eh noi ci ricorderemo fino a che poi non è esplosa la pandemia e quindi si sono chiuse tutte le porte per quanto riguarda la visita dei parenti nelle ore canoniche mezzogiorno e le 19 no negli ospedali no però cosa accadeva spesso accadeva che casomai è la persona che stava in ospedale veniva visitata tra tre quattro cinque persone e non era raro che le tre quattro cinque persone casomai chiacchierassero tra di loro e la persona allettata stava lì buona buona si erano andati per lui ma tanto che stavano insieme chiacchieravano pure tra di loro si rischiava appunto di di tra virgolette emarginare nuovamente la persona anziana mente appunto esattamente esattamente invece sfruttare il bagaglio di memoria che e di di ricordi ecco come e come no e come no possiamo in qualche modo definire un aspetto sicuramente fondamentale oggi più che mai mi verrebbe da dire bene con questo con questo auspicio che iniziative come queste altre siano siano sempre più prese in considerazione e siano attuate e ringraziamo il dottor ernesto albanelli grazie a lei grazie a lei grazie a lei arrivederci grazie a lei grazie a lei dati